Appartenete a quella categoria di persone che hanno una carta fedeltà per qualsiasi servizio? Oppure volete semplicemente rimanere sempre aggiornati sulle ultime offerte dei vostri negozi preferiti? Io ho la soluzione perfetta per voi e ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. Tech Princess. Esistono una moltitudine di carte fedeltà, carte che rendono i portafogli sempre più ingombranti e pesanti. Sappiate però che c'è un modo per portarle sempre con voi con estrema facilità. Si chiama Stocard ed è un'applicazione gratuita disponibile sia per smartphone Android che per iPhone. Utilizzare Stocard è facilissimo, non bisogna creare account o ricordarsi le password. Tutto ciò di cui avete bisogno sono le carte fedeltà fisiche, almeno per il primo utilizzo. Ne scegliete una, selezionate l'omonimo servizio sull'applicazione e poi usate la fotocamera dello smartphone per scansionare il codice a barre, ovviamente quando presente. In caso fosse assente dovrete solo inserire il codice della tessera manualmente. Mi raccomando, scrivetelo giusto. Prima di aggiungerla a Stocard ricordatevi però di selezionare il paese d'emissione. In questo modo l'applicazione vi suggerirà tutte le carte fedeltà disponibili sul territorio italiano, incluse quelle delle compagnie aeree, dei distributori di benzina, dei supermercati e delle catene d'abbigliamento. Attenzione, molti negozi sfruttano ancora tecnologie di scannerizzazione antiquate e quindi non saranno in grado di leggere i display degli smartphone. Niente panico però, in questi casi dovrete solo dettare al cassiere il codice cliente. Stocard ha anche una sezione offerte che mostra le promozioni attive nei punti vendita più vicini a voi. In questo modo potrete essere aggiornati praticamente in tempo reale sulle nuove promozioni permettendovi così di risparmiare. Allo stesso tempo i negozi che hanno aderito a Stocard avranno la possibilità di indirizzare offerte mirate e tempestive tramite l'applicazione. Sappiate che in questo modo i negozi che appartengono alla rete di Stocard sono riusciti ad aumentare le loro vendite. Direi che anche per oggi è tutto, io vado a fare incetta di punti con Stocard. Voi nel frattempo ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it. Ciao!